Saranno le decisioni di queste ore a cambiare realmente e velocemente le sorti del nostro paese. Ne è convinto il parlamentare PD Giovanni Bachelet che ha parlato di come affrontare l'emergenza economica e finanziaria che stiamo vivendo in un incontro organizzato nella Chiesa del Sacro Cuore di Mola di Bari. Gli italiani devono avere più fiducia in se stessi e credere in un futuro diverso per il paese, prendendo innanzitutto coscienza di quanto accaduto. Quello che sta accadendo in queste ore potrebbe far risalire la china ad un paese che non ce la fa più. Io credo che c'è un problema di tempo brevissimo, è un problema di medio e lungo periodo. Il tempo brevissimo è legato a un'emergenza di tassi di interesse sempre più alti legati a una sfiducia improvvisa e che si deve curare con strumenti di emergenza e questo vuol dire cambiare facce, cambiare governo, mettere persone di cui, quelli che ci devono prestare i soldi per poter continuare a pagare gli stipendi per esempio dei pubblici dipendenti, ce li continuiamo a prestare. Poi però questo può servire per evitare che il nostro debito abbia un costo ancora maggiore di quello che già non ha a causa di questi tassi alti. Invece per risolvere in modo strutturale i problemi del paese occorre un governo che sia capace di far cominciare, come ci ha detto anche l'Unione Europea, fare ricominciare un po' di crescita perché il vero problema di questi tre anni non è solo che ci sono stati i tagli, ma questi tagli non sono serviti a niente perché non è corrisposto ad essi anche una politica tale da fare crescere l'economia. Quindi si tagliano i servizi, diminuiscono le entrate, diminuiscono le tasse, si deve tagliare ancora una specie di spirale. Quindi su questo io non so quanto un governo che non è stato scelto dagli elettori e che non durerà più di un anno, anche nell'ipotesi più rosa, abbia gli strumenti per risolvere questi problemi di medio e lungo periodo. Questi problemi credo si risolvono con un nuovo governo in pienezza di poteri che abbia un disegno per l'Italia e si è capace di fare quello che non è stato fatto negli ultimi quattro anni. La Chiesa cosa può fare per arginare questa emergenza economica finanziaria? Io credo che, contrariamente a quello che molti pensano, quanto più la Chiesa fa il suo mestiere, cioè non cerca di orientare nell'immediato, con piccolo cabotaggio, le scelte politiche, tanto più profondamente aiuta la ripresa del Paese. Il Paese ha problemi di fede in se stesso, di ripresa della legalità, della moralità, di una politica non solo asservita agli interessi personali. Questo la Chiesa lo fa se fa la Chiesa, se forma le coscienze di cristiani adulti disinteressati che amano il bene del Paese.